salve in questo secondo video esploriamo il mondo delle maschere come affrontato in SNLRGG usiamo tre tracce video la prima video 1 la seconda è uno sfondo giallo omogeneo e la terza video 3 il clone della prima traccia ma è disarmata andiamo a vedere il pannello si può scegliere la traccia su cui scrivere le maschere la video 3 la terza traccia e non si può essere scelta è rossa perché è disarmata come avevo detto quando vogliamo fare le nostre maschere in tracce diverse dobbiamo armarla e levarle il play da quella precedente perché sennò si vedeva la precedente e poi creare le maschere eccetera c'è un modo più comodo farla dal pannello è la traccia solo per esempio prendiamo la traccia video 2 e diciamo che vogliamo fare una maschera in questa traccia bene noi vediamo la traccia video 1 perché è quella sopra e quindi è quella attiva ma possiamo usare il pulsante solo che ci esclude la prima traccia e anche la terza dirà verità e ci fa vedere e agire solo sulla traccia indicata qui e quindi noi siamo sulla traccia video 2 poi possiamo fare otto maschere per traccia nominati dalla 0 alla 7 possiamo anche cambiare il nome mettendoci le vogliamo noi in in questo modo se facciamo una maschera poi magari questo l'ho fatte tutte con il click del mouse sinistro facendo ctrl click si creano le maniglie delle curve di bersir a questo punto possiamo salvare la nostra forma come una selezione una un preset semplicemente con save preset che ha il nome pippo che abbiamo dato noi a questo punto anche se la cancelliamo possiamo rimetterla selezionando e carica oppure la possiamo cancellare mettendoci il nome pippo a questo punto non c'è più poi spostiamo questa maschera e creamone allora questa abbiamo creato la maschera 1 che l'abbiamo scelta dal menu oppure ancora più comodamente la scegliamo quale quale creare da qui questa è già creata è diventata gialla andiamo a crearne a una seconda prendiamo una forma di preset per esempio un triangolo e con control la spostiamo ora vediamo che sono gialle tutte e due perché abbiamo due maschere quella attiva e quella gialla perché c'è la selezionato in select possiamo scegliere di non vedere questa perché vogliamo agire solo su questa e quindi togliamo il pulsante nable oppure possiamo farlo con la seconda o con tutte le altre torniamo alla prima e diciamo che la vogliamo eliminare si può fare semplicemente un delete mentre la seconda è rimasta creiamo anzi ritroviamo la 1 al numero 0 e mettiamoci un cerchio con shift e la rotellina del mouse la rimpiccolisco un po perché troppo grossa con control e tasto sinistro il mouse la sposto ora ne abbiamo ancora due facendo il tasto reset delete all mask eliminiamo completamente tutte e due questo sia per vederle o non vederle tutte insieme contemporaneamente è una scorciatoia poi per scalare come ho già detto si usa il tasto shift nella rotellina del mouse e questa la scala nelle direzioni x y possiamo costringere solo lungo l'asse x oppure solo lungo l'asse y poi fede riguarda la trasparenza ora abbiamo selezionato la traccia la maschera numero uno che infatti si vede che hai i nodi mentre quest'altra è senza nodi e perché non è quella attiva quindi andiamo a vedere cosa fa il strumento fede al 100 è completamente trasparente quindi è un buco completamente aperto sulla traccia sottostante la video 2 lo rendiamo sempre più opaco fino allo zero in cui è completamente opaco e quindi non vediamo il buco si può dire che è coperto e non vediamo la traccia sottostante ma possiamo continuare fino a meno 100 in cui sia l'inversione della maschera il buco quello che prima era un buco invece ora semplicemente la nostra prima traccia tutto il resto del frame è stato bucato e quindi vediamo la traccia sottostante questo è successo solo nella maschera attiva facendo il gang father invece succede a tutte e due e lo stesso si può fare con la sfumatura dei bordi di default è 0 andando verso 100 si fa sia una sfumatura verso l'esterno andando verso meno 100 una sfumatura verso l'interno del bordo oppure col gang father lo possiamo fare su tutte le maschere presenti questa è la sezione punti i punti sanno a seconda come stato creato la maschera hanno un numero 0 è stato il primo punto creato 123 per i quattro punti del quadrato possiamo passare a selezionare punti che non si vede molto bene forse è meglio andare sull'azzurro quindi qui si vede un pochino meglio e poi si può renderlo questo è un punto lineare quindi un angolo avuto possiamo renderlo soffice e quindi c'ha le maniglie di bezier eppure ritornare a smossato possiamo cancellare quel nodo e quindi venendo a mancare il nodo qui abbiamo formato il triangolo oppure possiamo agire contemporaneamente su tutti i nodi della maschera e quindi con questo abbiamo reso quasi un cerchio perché non era un perfetto quadrato oppure possiamo ritornare a smossato mentre quest'ultimo serve a farlo di tutto le maschere presenti nella traccia questo caso questa era già smossata e quindi non non si è visto il risultato ma se adesso lo allinearizziamo è diventato un rettangolo e sappiamo invece l'ellisse così torniamo al nostro rettangolo poi sempre che qui si vede male si può decidere di non vedere i nodi e di non vedere neanche le linee dei bordi come in questo caso qui agire sul singolo nodo in questo caso è selezionato il nodo 0 cioè quello iniziale si può farlo anche numericamente e quindi avere la massima precisione immettendo i numeri qui con questo usando solamente semplicemente numeri e non il trascinamento non il trascinamento ma solo tramite i numeri si può usare il gang anche qui e in questo caso trascina tutti i nodi della maschera ma solo in questo caso perché anche se è il gang attivo e vogliamo trascinare tutti i nodi invece se ne trascina solo uno funziona solo con questo questo è il baricentro della maschera disegnata se andiamo sulla zero il baricentro è qui se facciamo una rotazione la rotazione è semplicemente lo scroll del mouse facciamo la rotazione viene preso il baricentro come centro di rotazione con lo shift il tasto medio del mouse possiamo scegliere in qualsiasi altro punto come centro di rotazione oppure se vogliamo possiamo ritornare a farlo coincidere in questo caso come abbiamo visto solo la maschera selezionata ruota intorno al focus al pivot point se facciamo il gang tutte le maschere anche quelle non selezionate tutte le maschere appartenenti alla stessa traccia ruoteranno bene abbiamo finito l'esame della maschera restano questi due sono ovviamente poco usate apply mask before plugins fa riferimento al modo al modo di lavorare del motore di compositor sinelera potete vedere i video 7 e 8 di questa playlist per avere informazioni più importanti in ogni caso si può dire che i plugins lavorano sul temporari andate a vedere cosa vuol dire non lo metto a spiegarlo qui e subito dopo i plugins viene attivata la maschera è stata creata con questo pulsante possiamo invertire l'ordine prima viene creata la maschera poi dopo applicati vari filtri vari plugin questo invece un vecchio pulsante di quando l'open gl di sinelera era rimasto datato non era quello più nuovo e funzionava male quindi spesso la maschera spesso la maschera non funzionava e si doveva disabilitare l'open gl perché funzionasse meglio oggigiorno non succede più però il pulsante è rimasto infine c'è il pulsante l'app che per non rendere la finestra che già grande su ancora più estesa può essere nascosto per non dare noia però fa ci sono comodi richiami alle shortcut per fare le cose principali bene questo è tutto è finito il video i due video sulle maschere in sinelera gigi grazie a tutti grazie a tutti